Il personaggio della storia al cinema di stasera Silvia del Signore, ecco a voi Raffa! 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 Non ci vestiti? Ma non ha detto, per fortuna è lui Raffa! No, ma che vestite per me? Raffa! Scusate eh! Veste capito che il film è, date la monica Raffa! 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 Stupati però! Oh! E' un fatto a una! Con paura! Con paura! Con paura a me! Oh! Non fai paura! Gira! 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 Quando riesce un momento di imbarazzo, io voglio te, e ti alzo e fai... Era benvenuto per il risultato! Invece non siamo benvenuti ormai Ma domani ci dici dove stessi pagare il biglietto a noi! Ma è davvero... E di tutto! Allora... A capire!